Del corpus testuale creato a posteriori in funzione della trama della commedia, con ogni probabilità quando di questa era già stata iniziata la redazione, prendo in considerazione alcuni dettagli dell'epistola a Morello che confermano la ricostruzione che ho appena sbozzato. La lettera dice in sostanza che in occasione di un viaggio in Casentino il poeta si è innamorato e che per l'amore di una donna che lo ha legato a sé deve da una parte abbandonare il servizio prestato in qualità di segretario al marchese e dall'altra interrompere le opere che sta scrivendo. Allega inoltre un testo poetico che documenta tale innamoramento. I problemi interpretativi che pone l'epistola sono numerosi, ma in questa sede semplifico tutto, osservando che l'innamoramento è figura dello smarrimento del poeta nella selva oscura e che quindi l'epistola allude all'inizio della redazione della commedia e dall'interruzione dei due trattati ai quali Dante stava lavorando presso il malaspine, cioè il convivio e il devulgario. Mi soffermo ora su alcuni punti dell'epistola che ci permettono di leggere dietro la metafora o l'allegoria dell'innamoramento un momento preciso della traiettoria letteraria di Dante. Il lodevole proposito di astenersi dalle donne e dal cantarle che l'innamoramento spazza via si chiarisce se lo leggiamo sullo sfondo della polemica fra Dante e Cino da Pistoia, entrambi in esilio per motivi politici, circa l'opportunità di coltivare la poesia d'amore nelle difficili condizioni nelle quali i due scrittori si trovano. A Cino che continua a farlo, Dante aveva risposto che ha abbandonato quell'attività poetico-amorosa fra l'altro perché nel cerchio della sua palestra, cioè nello stato di innamoramento, il libero arbitrio giammai non fu franco, sì che consiglio in van visibalestra. E la sua attività di filosofo, mentre scrive i due trattati, esige invece un impegno intellettuale svolto in piena libertà di arbitrio e quindi incompatibile con l'amore e con la poesia da esso ispirata. Siamo nella fase filosofica appunto della carriera di Dante, fra il 1304 e il 1306. Il culto poetico delle donne deve essere messo da parte e con esso anche l'attività di poeta d'amore, che è infatti completamente sacrificata alla prosa in questo periodo. E la poesia che scrive, come la canzone d'oglia mireca, è subordinata alla sua attività di poeta della rectitudo, la rettitudine che afferisce alla parte più nobile dell'anima, quella razionale. Non a caso, nel secondo libro del De Vulgari, Dante riserva a se stesso l'onore poetico più alto, quello della poesia filosoficamente ispirata e cede all'amico Cino, quello inferiore, di poeta d'amore. La ideazione della commedia, però, cui l'epistola allude, implica un capovolgimento nell'impegno di scrittore di Dante, per il quale egli decide di ritornare alla poesia, all'amore che la ispira e al culto della donna, si tratti di Beatrice o della sua antagonista. Nell'epistola, come nella canzone montanina, Dante deve quindi dare ragione all'amico Cino e riconoscere che all'amore e alle sue rischiose conseguenze morali ed intellettuali egli non può sfuggire. Il nuovo progetto poetico, la commedia, implica infatti l'abbandono del ruolo di filosofo e il ritorno al suo antico ruolo di poeta, la perdita del libero arbitrio e il prezzo da pagare, almeno provvisoriamente, a questo recupero della sua identità di poeta, fatta salva l'istanza redentiva che Beatrice, come già al tempo della vita nuova, rappresenta nel nuovo poema. La canzone descrive infatti una situazione di irresponsabilità, poiché la virtù che vuole, cioè la volontà, non è più assistita dal consiglio della ragione. C'è però nella epistola un dettaglio abbastanza incongruente con la situazione complessiva che il poeta suggerisce. Ci aspetteremmo un evento ed un personaggio femminile del tutto imprevisti, ed anzi in violenta collisione con la sua condizione presente di filosofo. E Dante invece dice che lei corrispondeva pienamente alle sue aspettative, cioè ai suoi auspitis, e che essa quindi era già stata configurata mentalmente come fantasma di desiderio, prima di concretizzarsi e di apparirgli. La incongruenza è clamorosa. Questa donna, da una parte, arriva come una folgore, quindi è letteralmente un colpo di fulmine, fulgur descendens. Dall'altra era auspicata, cioè attesa e desiderata. Si osservi bene che il concetto di colpo di fulmine esprime il carattere sorprendente, perché inatteso, oltre che sconvolgente, dell'evento che altera il corso della vita del soggetto, tanto da produrre, come succede in questo caso, effetti mortalmente deleteri. Che esso sia auspicato, ed anzi che corrisponda in tutto e per tutto alle caratteristiche che il poeta immaginava e desiderava in una donna ancora inesistente, è completamente illogico, se interpretiamo ingenuamente il passo come la descrizione di una cotta senile. Dovremmo supporre che mentre dispiegava nei due trattati filosofici il suo sapere in vista della riforma culturale e politica della società italiana, Dante segretamente inseguiva, delirando, un perverso ideale erotico che finalmente si materializza in una crudele ma bellissima montanara. È assurdo. La strada da seguire, per intendere il dettaglio degli auspizis e quindi la epistola nel suo insieme, è tutt'altra e va in direzione se non proprio dell'allegoria della commedia che entra a vide pascoli, certo in quella di una rete di velate allusioni al poema di cui è già in atto la redazione. Per comprendere il senso degli auspizis evocati dal poeta ci viene in aiuto Tommaso d'Aquino, che nella Summa Teologie spiega che l'auspicium è un tipo di divinazione di origine diabolica, come ogni altro, caratterizzato da una percezione visiva di fenomeni naturali, per esempio l'interpretazione del volo degli uccelli, e distinta dall'augurium, che è caratterizzato da una percezione uditiva di tali fenomeni, per esempio l'interpretazione del canto degli uccelli. Trattandosi nella canzone della epifania di un fantasma, è logico che si tratti della materializzazione e del compimento di un auspicium, e considerati gli effetti deleteri che tale fantasma ha sul poeta, è logico anche che esso abbia un carattere se non un'origine diabolici. Ma in che senso e da che cosa questo fantasma sarebbe stato vaticinato? Quali esperienze nell'esistenza del poeta avrebbero augurato il suo arrivo, ed in modo sufficientemente chiaro inoltre da determinare in lui una più o meno prolungata attesa di esso? La risposta è subito evidente se si considera che la epistola, come con altri credo, è introduttoria non alla sola canzone, ma alla serie delle canzoni distese che configurano il libro. È ciò che agevolmente si deduce dall'espressione presentis oraculi seriem, l'intero libro delle canzoni, cioè le quindici distese, è oracolo, ossia a partire da Macrobio e dal suo commento al sogno di Scipione, profezia onirico-poetica dell'incontro fatale che l'ultima canzone del libro narra. Tutto insomma diventa chiarissimo se comprendiamo che Dante, a commedia già iniziata, ha riunito tutte le canzoni scritte in precedenza, e non espressamente dedicate a Beatrice, e le ha rilette come anticipazione e vaticinio dell'anti-Beatrice che finalmente si materializza nel fantasma descritto in amorda che conviene. Fantasma ostile a Beatrice, il quale, assoggettando il suo arbitrio e gettandolo in una selva oscura, determina gli eventi che la commedia narra. Un'ulteriore conferma di tale diagnosi è un altro passaggio del citato articolo della Summa di Tommaso. In esso si fa riferimento ai geomanti, cioè agli indovini che, ispirati anch'essi dal demonio, vaticinano il futuro attraverso figure leggibili nel paesaggio. Ebbene, i geomanti sono evocati da Dante proprio quando introduce nel diciannovesimo del purgatorio il sogno perverso della femmina balba, cioè dell'anti-Beatrice, la quale, benché si presenti in modo esplicito solo in un momento molto avanzato della trama, cioè nei canti finali del purgatorio, era però presente come elemento strutturante fin dall'inizio nella fabula della commedia. La femmina balba, come la montanara di Amor da che conviene, è dunque figura femminile antitetica a Beatrice, ma non meno di questa necessaria alla fabula della commedia e non meno di questa chiave poetica del dispositivo polisemico del testo. Se a Beatrice è legata l'istanza sublimante e salvifica dell'Eros e collegata ad essa la funzione apocalittica del poema, cioè il suo profetismo, all'anti-Beatrice e alle polimorfiche figurazioni in cui si incarna, è legato il suo risvolto divinatorio, cioè gli auspici diabolicamente ispirati che indicano il cammino opposto, quello che condurrebbe il poeta, come già Ulisse sedotto dalla sirena strega, alla definitiva perdizione, nell'abisso di una cieca e delirante sensualità, cioè di una filosofia priva di sbocchi teologici. Nel testo di Tommaso leggiamo dunque la matrice antiteologica della rivale di Beatrice.